Roma dice, basta! Roma dice, basta! ...di comitati, realtà locali, magari alla fine di questa giornata, di questa mattinata, le leggeremo tutte. Intanto il mio ringraziamento va alle sei magnifiche ragazze con le quali tutta questa storia è cominciata. ...ai 50 e più volontari che si sono spesi in questi giorni. ...avrete una sorpresa, Shandai! ...prova dice, basta! ...prova dice, basta! ...prova dice, basta! ...prova dice, basta! ...prova dice, basta!